Un bambino nato all'ospedale Boregar di Aosta è risultato positivo all'infezione da nuovo coronavirus. Il parto è avvenuto la scorsa settimana nella notte tra giovedì e venerdì. La madre, residente nella cintura di Aosta, anche lei positiva, ha parturito con 38 di febbre. Il risultato del tampone è arrivato il giorno dopo la nascita. All'interno dell'ospedale Boregar è stata riorganizzata l'adegenza nei reparti di ostetricia e pediatria. In Valle d'Aosta fino ad oggi l'epidemia ha causato circa 1000 positivi e 123 decessi. Il ritorno ai casi zero è previsto non prima del 13 maggio. All'ospedale Boregar è già il secondo caso di parto con la madre positiva al virus. Secondo gli studi effettuati su donne incinte, il contagio è sempre avvenuto attraverso lo stretto contatto con la madre nelle prime ore di vita e non in utero. I medici cinesi, nei 34 casi studiati, hanno cercato il virus nel liquido amniotico, nel sangue del cordone ombelicale e nei tamponi nasofaringei dei neonati. Erano tutti negativi. Il giornale britannico Guardian ha poi riportato il caso di un bambino positivo alla nascita, ma in realtà il tampone è stato fatto a 36 ore dal parto. Non si esclude che l'infezione sia stata trasmessa post nascita e non in utero, ha spiegato Serena Donati, direttrice del reparto salute della donna dell'età evolutiva dell'Istituto Superiore di Sanità.